Tratto da Segni dal Cielo. Transito di Venere, 6 giugno 12 diretta web dall'Osservatorio di Padova Eskiwa Ciufo. L'eclissi anulare di Sole è passata, affascinando milioni di persone, che hanno applaudito la fase centrale dell'anularità, l'immagine della Luna, che ha coperto la maggior parte del disco del Sole, creando quello che i Maya definivano il Sacro Cerchio di Fuoco, un anello di luce infuocata attorno alla sua circonferenza. L'evento è stato ripreso anche dall'Area 51, la nota e segretissima base del deserto del Nevada, dal Monte Fuji, simbolo del Giappone, e dagli Stati Uniti, dove parchi nazionali e stadi sono stati presi d'assalto da curiosi e appassionati. Ma se fino ad ora l'Italia è stata semplicemente a guardare l'evento dal web, sarà diverso invece per l'attesissimo transito di Venere sul disco del Sole. Quindi un evento da non perdere e che si verificherà solo tra 105 anni. Riportato anche dalla rivista scientifica Nature, è un evento unico per i ricercatori, in quanto sono le condizioni ideali per scoprire altri pianeti. L'astronomo Yai Pasakoff ha dichiarato alla rivista inglese anche se noi scienziati siamo in grado di inviare sonde spaziali su altri pianeti, per un esame più attento l'osservazione dei transiti dalla Terra fornisce informazioni uniche e ci dà l'opportunità di calibrare e migliorare il nostro metodo di ricerca dei pianeti extrasolari. Un'occasione unica quindi, per cercare di individuare nuovi pianeti lontano dal nostro. Il satellite della NASA a Crimset monitorerà l'evento e ci si concentrerà soprattutto sull'atmosfera del pianeta Venere. Pasakoff ci tiene a sottolineare gli spostamenti sono molto rari, perciò perdere questa occasione sarebbe un crimine, lo dobbiamo ai futuri astronomi, che osserveranno il passaggio nel 2117. Sembra proprio, che il popolo Maya fosse a conoscenza di questo evento stando alle ultime scoperte dell'astronomo e archeologo Jesus Galindo. Infatti, dopo la scoperta nella città di Maya Pandi un antico dipinto murale, sembra che ciò che è stato scambiato per fine del mondo non fosse altro che l'evento in questione. Il transito di Venere sul Sole indiretta dall'osservatorio. L'astronomo Leopolda Benacchio ci informa che il 6 giugno 12 è prevista la diretta web del passaggio di Venere, dall'osservatorio di Padova. Il sito della diretta è stato allestito da Caterina Boccato. Ma perché l'evento è così straordinario? Ce lo spiega Leopoldo, il passaggio è un evento molto raro, rispetto alla vita umana. Pensiamo che una persona nata nel 1900 e vissuta 100 anni, fino al 2000, un intero secolo, non ha potuto vedere mai il passaggio di Venere. Alcuno di noi forse ha visto quello del 2004, ma perdere quello del prossimo 6 giugno sarebbe un vero delitto, dato che non succederà più fino al 2117. Da noi sarà poco visibile, un'oretta al mattino, ma per fortuna c'è internet e potremo vedere in rete tutto il fenomeno dalla mezzanotte del 6 fino alle ore 7 circa dello stesso giorno. Grazie agli astronomi di Padova potremo sapere tutto del passaggio di Venere, seguirlo in tutte le fasi con commenti e interviste di esperti diretta web transito Venere. Oltre alla diretta web di questo evento imperdibile, alcuni ricercatori appassionati di UFO e profezie, posizioneranno le loro videocamere all'infrarosso per osservare il cielo durante il transito di Venere, per dare la caccia agli UFO.